Logan Paul contro John Cena. Questo scenario di fantasia potrebbe davvero diventare realtà. Le bocce probabilmente sono già in movimento e a confermarci tutto questo è proprio Logan Paul che ha parlato apertamente della questione durante il suo podcast. E qui abbiamo un paio di estratti che ora vi traduco e adatto in italiano. Ha detto Logan Paul combattere contro John Cena sarebbe un sogno e io ho già dimostrato che un certo modello funziona. L'ho dimostrato due volte. Il modello di un testardo e caparbio ragazzo di internet contro un leader, un top player di un'altra industria. Con Floyd Mayweather, il famosissimo pugile, ha funzionato. Ha generato tra i 65 e i 70 milioni di dollari. Lo stesso con Roman Reigns a Crown Jewel che è diventato l'evento internazionale proposto in modalità pay per view o similare più visto nella storia della WWE. Ce l'ho fatta per ben due volte e il motivo è che quando vengo appaiato ad un top player, a un leader, a una leggenda di un altro ambito quel modello funziona. Dopo Crown Jewel, John Cena ha pubblicato su Instagram una mia foto. Poi ho visto un articolo che diceva come John Cena fosse alla ricerca dell'avversario giusto per Vrestalmania. Ho lasciato un mi piace e ho risposto con l'emoticon degli occhi che osservano interessati. Se questo match dovesse disputarsi, spaccherebbe internet. E subito ho preso il cellulare e ho mandato un messaggio a Triple H. Gli ho scritto Vuoi far parlare il mondo? Ecco, questo è il match da organizzare. Avrestalmania, a Los Angeles, il giorno del mio compleanno. Triple H, molla l'osso. Fammi un regalo di compleanno. Permettimi di combattere contro John Cena. Sarebbe pazzesco. Quindi, Logan Paul ha quest'idea nella testa. Addirittura l'ha proposta lui direttamente a Triple H. Ma non è finita. C'è un altro estratto poco sotto. Dice l'influencer Questo è il modello Quindi la tipologia di eventi Che voglio mettere in scena con la WWE E questa settimana Mi incontrerò con loro E dirò chiaramente Ehi Questo è quello che funziona Quando io sono coinvolto Mettetemi contro la vostra prima scelta Contro il meglio che avete Perché avete visto Che funziona Che non fallisco Che porto la nave a destinazione E ora Lo sapete per certo I fatti ve lo hanno dimostrato Non solo posso disputare dei match strepitosi Ma di sicuro Metto anche sederi Sugli spalti E spettatori davanti al teleschermo Ora So di essere Un outsider Aggiunge Logan Paul Quindi devono trattare La mia carriera In WWE In maniera Differente Rispetto Al resto Del roster So Che tutto ciò Potrebbe scatenare Qualche Malumore So Che qualche altro Lottatore O qualche fan Potrebbe alzare Le bagni al cielo In segno Dispregiativo Dicendo E chiedendosi Come mai Questo qui Ha un match Così importante Contro John Cena O contro Randy Orton La risposta è Perché Ci faremo Un sacco Di soldi Qui Logan Paul Usa delle parole Un po' più pesanti Che ho Attenuato Si dice Attenuato Che ho reso più morbide Perché faremo Veramente Un sacco Di denaro E quindi Ci ha dato Con queste Dichiarazioni Le sue Intenzioni E quello Che cercherà Di ottenere Sino A ieri Abbiamo Fantasticato Forse Prevalentemente Sull'unione Dei fratelli Paul Viste anche Le dichiarazioni Di Jake Con loro Contro gli Usos Jake Paul Ha detto Non mi è Piaciuto Perdere Contro Jimmy E Jay A Crown Jewel Vi prometto Che tornerò Per vendicare Quel risultato Ma ora abbiamo Il diretto Interessato Logan Quello più Addentro Alle vicende WWE Quello che Già ha Un aggancio Quello che Già ha Fatto Vedere Qualcosa Quello che Si è già Meritato In giro Parecchio Consenso Che mette Le mani Avanti E in più C'è questa Bizzarra Coincidenza Del suo Compleanno Che cade Nei giorni Di Vrestelmania Il che Diventerebbe Se Dovesse Combattere In qualsiasi Modalità Non necessariamente Contro John Cena Ma Un altro Traino Pubblicitario Perfetto Da sfruttare Questo dream match Logan Paul Contro John Cena Furia di essere Ripetitivo O di sembrare Troppo Pubblicizzante L'abbiamo intuito Come possibilità Già più di un mese fa Su Twitch Durante le dirette E di sicuro È un money match Logan Paul Ha ragione È una sfida Inedita In uno show Vrestelmania Nato per Contaminare Il wrestling Con il mondo Circostante Vrestelmania Viene pensata Così Non un Richiudiamoci Su noi stessi Ma un Apriamoci E coinvolgiamo Tutte le celebrità Possibili Deve diventare Un tamburo Di marketing Che risuona In tutto il mondo Poi è chiaro Devono esserci anche Dei bei match Dei momenti Emozionanti Ma Anche solo Vedere nello stesso ring Logan Paul E John Cena Potrebbe esserlo Io Se ci fosse Questa battaglia La approverei Senza problemi Perché Mi rendo conto Dei meccanismi Che possono Innescarla E addirittura Potrebbe essere Il main event Di una delle due serate Pensateci Logan Paul E John Cena Day 1 Roman Reigns E The Rock Day 2 Una Breastlemania Mediaticamente Pazzesca Volete il match Con mille mosse Mille cose Ci saranno anche quelli Ma Gli headliner Ci fosse Questa sfida Ci fosse Quella con The Rock Beh Gli headliner Sono altri Voi cosa ne dite? Siete curiosi? Vi interessa? Vi intriga A questo scenario? Fatemi sapere Tutto qui sotto Nei commenti Che ne faccia? Vi interessa?